Nel giro di una quindicina di giorni, dunque tra la fine di ottobre e gli inizi del mese di novembre, dovrebbero essere disponibili anche in Emilia-Romagna i tanto attesi tamponi rapidi. Lo ha reso noto questo pomeriggio l'assessore regionale alla salute Raffaele Donini. A differenza dei tamponi nasofaringei, che rilevano l'RNA del virus e che necessitano per forza di cose di 6-48 ore per essere processati, i tamponi rapidi forniscono una risposta nel giro di una quindicina di minuti o poco più. Sono detti antigenici perché vanno a cercare le proteine del virus, cioè gli antigeni, sempre nelle secrezioni respiratorie. Questi test sono in grado di fornire una risposta qualitativa, sono cioè in grado di dire se gli antigeni virali sono presenti nelle secrezioni respiratorie, ovviamente quando siano in quantità sufficiente per essere rilevati. Sono estremamente comodi da eseguire, non richiedono infatti particolari strumenti di laboratorio. E proprio sull'utilizzo dei tamponi rapidi, la regione sta costruendo un accordo con tutta la platea interessata dal patto per il lavoro, per testare i dipendenti privati, in particolare quelli dai 18 ai 40 anni. La regione, fanno sapere da Bologna, offrirà i tamponi rapidi ai laboratori privati e alle strutture dell'IOP, nelle quali il mondo datoriale andrà a testare i lavoratori, non aggravando il peso sulla sanità pubblica, che andrà a focalizzarsi invece sul contact tracing.